Il prossimo fine settimana Prato sarà contaminata dall'arte contemporanea. Stamani è stato presentato il programma completo di Prato Contemporanea promossa dal Comune e coordinato dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Una tre giorni ricca di performance, mostre, installazioni di luce e street art che si svolgeranno negli angoli più storici e simbolici della città per creare un ponte tra l'arte di ieri e quella di oggi. Un ponte permanente perché tutte le opere resteranno in città arricchendo la collezione di opere contemporanee di grandi maestri internazionali già presenti a Prato. Si crea un ponte tra la storia e la memoria della città di Prato e il presente in cui gli artisti stanno lavorando per lasciare nuove tracce significative e identificative per questa città. E allora ecco che venerdì alle 19.30 all'ex Campolmi e in via Pomeria accanto al nuovo passaggio pedonale sarà possibile ammirare Crossing Borders, una composizione monumentale di camicie realizzata da Carina Caiconen, artista famosa per le sue installazioni con gli indumenti usati. Altro grande artista che è aderito a Prato Contemporanea è Carlo Bernardini che ha realizzato per l'occasione Il Passo della Luce, un percorso luminoso che collegherà il castello dell'imperatore al Cassero. La giornata di sabato vedrà protagonista Emilio Esgro con il suo omaggio allo scrittore pratese Curzio Malaparte, Maledetti Toscani, Benedetti Italiani e una cancellazione in tre tempi che si articolerà tra il Centro Pecci, Palazzo Pretorio e il Teatro Metastasio. Alle 15 sarà possibile visitare la nuova ala del Centro Pecci insieme alla direzione dei lavori. Domenica dalle 15 spazio alla Street Art. Nove artisti potranno dialogare con due luoghi speciali di Prato, il Bassione delle Forche e via Piercironi. In questo vivace contesto si inserisce anche la Notte dei Musei con aperture straordinarie fino alle 23 dei principali spazi museali della città e l'inaugurazione ufficiale di Piazza delle Carceri prevista sabato sera alle 23 con lo spettacolo pirotecnico con giochi di luce e musica. Il sindaco Roberto Cegni ha puntualizzato i costi, viste le ultime polemiche sullo stanziamento di 600 mila euro a favore del Centro Pecci. Gli unici fondi assegnati sono questi 300 mila, neanche tutti spesi perché gli eventi di questi giorni non comportano spese così alte, meno della metà, per quello che sarà l'ambizioso progetto 2014-2015 e si parla di altri 300 mila, altri sono stati chiesti a degli sponsor. Mi sembra anche futile e veramente ingenerosa la polemica fatta con ASM che ha assegnato a fine 2013 40 mila euro per quella che è attività istituzionale che sta stessa fa tutti gli anni nei confronti del Museo Pecci.